La storia di una vita in un libro, più forti della non speranza, la raccolta di poesie che racconta il lungo cammino del compianto Michele Campione, è un po' l'autobiografia di un uomo che nella sua vita è stato non solo giornalista e direttore della sede RAI della Puglia, ma anche scrittore, critico d'arte e poeta appunto. Il libro, edito da Gelso Rosso, il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori, è stato presentato all'Auditorium Lavalisa di Bari, nell'ambito di Notti Sacre 2011, la rassegna culturale promossa dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto nelle chiese della città vecchia. Alcune poesie di Michele Campione, lette dall'attore e regista Vito Signorile, sono contenute in un cd audio allegato al volume, alla presentazione di più forti della non speranza, anche la figlia di Michele Campione, Alessandra. Possiamo dire che in questo libro c'è un po' tutto papà? Assolutamente sì, è veramente un compendio di tutte le tematiche che a lui erano care, sul sud, sulla famiglia, sulla natura, sulla religione, forse soltanto l'arte abbiamo lasciato fuori per la prossima pubblicazione. Il papà era un papà grande, non troppo presente perché era un uomo pubblico per cui era spesso fuori, però quando c'era era una di quelle persone che sanno far sentire in poco tempo la loro presenza.